Trattiamo appunto del reparto di oculistica dell'ospedale di Rapallo e questo reparto effettua in totale quasi 20.000 prestazioni all'anno e queste prestazioni comprendono gli interventi chirurgici, le visite ambulatoriali, i laser, gli esami diagnostici eccetera e dentro questo numero ci sono anche 2.500 interventi chirurgici. Constatato che questo alto numero di interventi comporta però quasi un anno e mezzo di lista di attesa per i pazienti causato anche dalla quantità di lavoro burocratico da espletare, considerato che in conseguenza delle lunghe liste di attesa sopra descritte molti residenti del Tiguglio optano per interventi oculistici presso l'ospedale San Martino di Genova. apro una parentesi, sempre meglio che restino nella nostra regione e non vadano altrove. Quindi interrogo l'assessore di competenza per sapere se sia possibile assumere anche solo una figura che integri l'attuale staff medico in modo tale che grazie a questa figura la lista di attesa potrebbe scendere intorno all'anno. Grazie. Non posso che ritenermi soddisfatto dalla risposta datami dall'assessore Viale anche perché subito dopo poco la nomina del nuovo direttore generale sono andato appunto a parlarle e a conoscerla e mi ha trasmesso fiducia quindi poi la fiducia è sempre condizionata chiaramente la valuteremo con i fatti e questa interrogazione non è nata per fare la classica marchetta campanilistica essendo Rapallino ma essendo un consigliere regionale sono stato eletto in tutto il territorio quindi il Tiguglio è un territorio vasto e bisogna sempre tenere a mente che l'ospedale di Rapallo ha avuto un costo pari a 43 milioni di euro ed attualmente le sale operatorie presenti nell'ospedale sono molto all'avanguardia rispetto ad altre quindi sarebbe un peccato non sfruttare il tutto. Grazie